Cosa significa questa novità Ninfala Serie 6 per i prodotti futuri? Siamo fiduciosi che con questo sistema riusciremo ad alzare il livello tecnologico e garantire una perfetta integrazione architettonica. Questo significa più comfort e sicurezza per balconi, terrazzi, scalinate e altri ambienti sicuri, quindi agibili. L'aspetto estetico è garantito dalla personalizzazione delle finiture del vetro e del profilo Ninfa, mentre la sicurezza è garantita sia a livello del calcolo che dai numerosi test reali superati. Sapete quanti test sono stati eseguiti su tutta la Serie 6 di Ninfa? Oltre 100 test, tra laboratorio in casa Faraone e presso gli enti certificatori. In questo caso siamo stati al Politecnico di Milano. In concomitanza dell'uscita della Serie 6 di Ninfa, presentata dal nostro amministratore delegato Flavio Faraone, presenteremo quindi il nuovo catalogo, il nuovo manuale dei parapetti in vetro e io ho il piacere di comunicare che è online il nuovo sito faraone.it. Con Ninfa 6, attraverso il suo pacchetto tecnologico Performance Pack e vetro strutturale, vogliamo offrire uno sguardo al futuro verso panorami certificati.